Grazie a tutti. Non ultimo per cercare di incentivare al massimo lo spirito di partecipazione democratica, l'ho detto più volte abbiamo bisogno di persone attive, impegnate, i ragazzi soprattutto potranno dare un esempio di cittadinanza attiva. Questo progetto che mira a sensibilizzare le scuole, le giovani generazioni sui valori della nostra Costituzione. È un progetto al quale teniamo molto, è un progetto che parte da già qualche anno, che ha condiviso nel percorso un sostegno significativo con il Presidente dell'Abraccio, Matteo Marzano, a quale va un commosso saluto. I ragazzi sono i protagonisti soprattutto anche perché oggi c'è bisogno di riscoprire e dare nuova linfa a dei valori che purtroppo stanno trovando un po' di patina, credere nei loro sogni, di praticarli e di non scoraggiarsi. Grazie a tutti.